Abbiamo un tesoro in casa e non lo sappiamo. I nostri cassetti contengono oro, rame e argento, ma anche palladio e rodio, utilizzati per la costruzione di schede elettroniche e microprocessori. Secondo una ricerca dell'Ipsos, ciascuno di noi conserva in casa in media 9 dispositivi rotti o non usati. Più di 8 italiani su 10 tiene la parte apparecchi che non usa, 6 su 10 conservano quelli rotti e collezioniamo anche pile esauste. Proprio i nativi digitali, la cosiddetta generazione Z, secondo la ricerca, sono i più ignoranti in materia di smaltimento dei RAI. Questi cosiddetti rifiuti elettrici ed elettronici sono delle vere e proprie miniere urbane perché permettono di recuperare oro, argento ed altre materie prime in modo semplice e in ambiente non necessariamente industriale, abbattendo così costi ed inquinamento rispetto all'estrazione in miniera. Eppure, secondo i dati emersi dallo studio commissionato da Aerion, la società che si occupa del riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, abbiamo spazio per crescere. Un intervistato su 6 ha infatti dichiarato di aver gettato i RAI nell'indifferenziata o nella plastica. Ai primi posti per il conferimento scorretto troviamo asciugacapelli, tostapane, frullatore e carica batteria per i cellulari. Sprecare questa risorsa in un paese povero di materie prime come il nostro a costi economici ed ambientali. Se la filiera del riciclo dei RAI non migliorerà, si stima che nei prossimi tre anni avremo perso oltre 15.000 tonnellate di materie prime essenziali per i nostri oggetti elettronici.